Ovviamente ho registrato il video in fuori fuoco, spero che il video vi piaccia comunque e vi lascio il video bella Stai registrando? Si, non si veda male, sei a fuoco, benissimo, i capelli fanno cagare ma non mi importa e iniziamo subito Bellati ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Zanahd, come stiamo a vedere non sono morto, sono qui con voi Ho il cappuccio perché ovviamente devo avere i capelli di merda e quindi mi fanno cagare per evitare strane cose Metto il cappuccio, comunque vi volevo dire che non sono morto da una settimana, quasi due, che non pubblico video Cioè ci sono dei vari motivi, allora uno dei motivi principali è che tutta la settimana scorsa, quasi tutta, da venerdì al giovedì pomeriggio Non ho avuto internet, quindi non ho potuto andare in internet, ho avuto un po' di 3G però l'ho consumato subito, in un giorno l'ho consumato Avendo soltanto un giga, comunque questo qui è uno dei vari motivi che non ho potuto carichere video In quella settimana la stavo bene, adesso come potete sentire molto probabilmente, anche se il microfono ce l'ho qua Perché il telefono ce l'ho qua, la macchina la, ma il microfono è qua Come possiamo vedere, ho un po' vedere, sentire più che altro, ho un po' il naso tappato Perché ho da sabato, venerdì più o meno, praticamente da quando mi è ritrovata la connessione Mi è avvenuto un po' di febbre, raffreddore, tosse, stavo per morire quasi, no scherzavo ma siamo quasi là Comunque ho avuto un po' di male, adesso ho avuto, grazie italiano Comunque ho un po' di male ancora, non so per quanto possa continuare questa cosa Ma non per molto, visto che sto pian piano migliorando Ma, beh, soltanto per il cambio del tempo, tutto così, ogni anno è uguale Anche WIPOS sarà la stessa cosa E poi un'altra cosa fondamentale, è riniziata la scuola Sono riniziato i sport, anche se facevo anche inostante uno sport, ma sono dettagli Più che altro ho iniziato la scuola, ho iniziato a svegliarsi presto, ho iniziato ad andare a scuola Svegliarsi, anzi, sì, svegliarsi presto, andare a letto presto Più che altro prendere il sonno presto perché andare a letto, siamo là, quindi i tempi non cambia molto Sto registrando bene Quindi, alcuni compiti non sono eccessivi, però lo stesso cominciano a rompere Magari adesso si incomincia anche a studiare, ho avuto le prime verifiche I miei primi tre, finalmente, non è tanto che aspettavo i miei primi tre Proprio iniziamo bene l'anno e festeggiamo con un bel tre, un bel quattro, un bel cinque Cinque ci sta, però tipo tre, quattro, due, uno, zero ci stanno Comunque a parte i scherzi, sì, qualche tre ci sta Anche no Comunque, spero che da questa settimana, dalla prossima ricomincio a fare video Anche con Clash of Clans, con il mio account, ho avuto qualche modifica Anche se non ho avuto niente per una settimana I lavori, i lavori si può dire E i muratori hanno finito di costruire qualche cosa, ma non tante cose Ora sto potenziando un po' le torri degli Strigoni, l'arco X che ci mettono davvero tanto tempo Magari tra un po' di giorni quando ho finito Porterò un video su Clash of Clans, sull'aggiudamento del mio villaggio Comunque questo video qua era per dire che non sono morto Sono ancora vivo Quando ho tempo pubblico video, magari non tutti i giorni Non la stessa ora La stessa ora sì, perché ora posso anche mettere i video pianificati Quindi posso decidere quando lo metto Comunque non tutti i giorni, magari uno sì, uno no Uno sì, uno no Anche perché se avessi una serie da fare La registrerei, potrei caricare tutti i giorni video della serie Ma non avendo serie, non avendo idee Non posso caricare ogni giorno video Dovrei per ogni giorno sempre trovare nuove idee E non so Comunque, questo qui è un po' dirvi la situazione Spero che il video vi piaccia E vi piaccia, più che altro le informazioni mi sono state utili Più farmi vedere che non sono morto Spero che mi seguiate sempre Anche se sarete in 2-3 che mi seguono Ma a me, cioè A me basta che qualcuno mi segua Che qualcuno mi metta like Anche se non conta Ma è bello vedere like i video Bello che ogni tanto qualcuno mi commenta Ci sono i video che li un po' più tecnici Dove ti spiego come fare i ragionamenti Come fare la Io i commenti Io li leggo sempre i commenti È che non sto a commentare per vari motivi Uno è Ok, li leggo Ma non so la risposta Quindi piuttosto di scrivere cose Oppure piuttosto di dire No, guarda, non so, terza idea Piuttosto, guarda, non rispondo Oppure aspetto che altri rispondano a quella domanda Oppure semplicemente la leggo E poi non mi ricordo di rispondere Ma semplicemente Anzi, a maggior parte delle volte Non avendo tante notifiche Leggo il commento Non so cosa scrivere Mi informo su internet Vedo se c'è Riesco a fare qualcosa E se riesco rispondo Se non riesco Ovviamente se non trovo niente Non rispondo Questo qui è varie Sono le cose primarie Per cui Anzi, le motivazioni primarie Per cui io non rispondo Ai commenti sui video Un po' più tecnici Spero che questo video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Mi ti piace alle video per commentare La mia voce sta andando Metti in piaccia Una pagina Facebook Che ogni tanto pubblico qualcosa E ci vediamo Sì, bella Sì, bella Sì, bella Sì, bella